Innamoratevi, se non vi innamorate, è tutto morto, morto, tutto è, vi dovete innamorare e diventa tutto vivo. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi, però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso, amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente e quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo, ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare, noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati, che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente, anzi chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, dobbiamo pensarci sempre alla felicità e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare a tutti noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare il sentitore che è